Nella sala Giordano di Palazzo, Medici Riccatti di Firenze, si è svolta la premiazione del concorso Liquor d'Olivi, dedicato all'olio extravergine d'oliva d'eccellenza. Organizzarlo per la seconda edizione è stata Aero, associazione internazionale ai ristoranti dell'olio, nata dalla collaborazione di un ristoratore e un produttore di olio extravergine, con l'obiettivo di unire due modi apparentemente lontani come quelli appunto della produzione e della ristorazione. Il concorso mira a selezionare una gamma di oli di alta qualità che saranno acquistati dai ristoranti che vi partecipano. I riconoscimenti sono stati assegnati anche agli oli biologici, mentre una sezione è stata dedicata ai DOP e agli IGP. Qual è l'importanza di un'associazione come la vostra? L'importanza fondamentale anche perché per la prima volta i produttori di olio si avvicinano a un mondo al quale sono stati sempre distanti, anche se avrebbero voluto stare vicini, che è quello della ristorazione. C'è sempre un certo scetticismo da entrambe le parti, sia da parte dei ristoratori, perché l'olio effettivamente rappresenta per loro un costo e non un guadagno, non un prodotto da vendere. E per i produttori di olio quindi c'è scetticismo dei ristoranti perché loro non comprano solitamente gli oli buoni, ma scelgono spesso in base al prezzo e non in base alla qualità. E questo è vero, in parte hanno ragione tutte e due, ma più di tutti secondo noi abbiamo ragione noi nell'impegno per fare questo, per cercare di portare avanti il nostro progetto, che è quello di riunire queste due realtà, farle collaborare, farle dialogare e farle andare avanti insieme, avanzare insieme. Il serato di prima azione a conclusione di una selezione fatta su oli prevalentemente toscani, però è un'associazione internazionale, nata a febbraio, quindi appena nata, con grosse prospettive per il futuro. Che caratteristiche che devono avere gli oli che vengono selezionati da voi? Allora, innanzitutto devono essere completamente esenti da difetto. E poi sono più che altro oli atti ad avere, sono predisposti per una selezione per essere poi promossi nei ristoranti. Quindi cercheremo di promuovere oli toscani in Toscana, oli siciliani in Sicilia e quanto necessita per tutto il comparto olivicolo italiano ed internazionale. Quindi, logicamente, oli corretti e corretto utilizzo e promozione poi dal ristorante al consumatore finale. Vorrà dire avere prezzi più bassi o cercare di alzare la qualità e quindi anche poi gli introiti di chi produce l'olio, che si sa bene che tante volte non bastano gli incassi a pagare le spese. Allora, questo non vuol dire prezzi più bassi, ma vuol dire remunerazione per l'effettivo valore dell'impegno di chi fa olio di qualità. Quindi chi fa non industrie olearie, ma piccoli artigiani che abbiamo tutti accanto alla porta di casa, che si dedicano con passione a promuovere e preservare il territorio e quanto c'è di buono nel territorio. Grazie a tutti.